apriti forza del pensiero sono diventato medium guarda qua eh apriti porta apriti con l'impostazione delle mani che è che mi disturba nell'impostazione delle mani adesso apriamo il cancellus cancellus non lo sapevamo apriti cancello maleficus minchiurus apriti i cancello non rompesle i palata di cancello di merda che non si apre più forza troia usale 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 il cancello non si apre più adesso scavalco dai dammi vercello dai dai si 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 ma l'andrea dov'è? è inchiodato e bloccato sin sala bin niente abracadabra è visto detto abracadabra funziona tutto qua che è una storia del quod italiano adesso riprendiamo tutta una storia del quod italiano l'andrea è stato uno dei primi a importare il quod in italia questo è il suo regno pensate che abbiamo delle scritture lì eh ma abbiamo anche tutte queste qua non volevo dirlo eh abbiamo tutti questi qua ci dovrà essere anche il ritardo che abbiamo fatto a Cervigna da qualche parte mia marca tanta roba lì no qua le usa le usa le usa le usa le le usa le usa le usa le dom da dom 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 ecco qua un vitto vittima usa le usa le usa le usa le questa macchinina a 200 chilometri orari adesso andiamo dentro a vedere tutti i gioiellini di andrea dice che mi butta fuori che sono uno stalker io sono uno stalker secondo te? secondo Luca Callegaro sono uno stalker non è assolutamente vero adesso vado a rompere i coglioni andiamo all'occhio e andiamo alla luce azzurra io mi perdo qua eh arrivo 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 non spegnere le luci che sto facendo un filmino eh a proposito mi ha chiesto hai qualche moto d'acqua usata? perché mi ha chiesto bene non toccare questa no io non la tocco se no tu mi fa un culo così eh no Andrea ho filmato tutto eh di tutto di più saluta salutami non mi saluta ciao aspetta ciao ciao